Ragazzi, ahimè, è arrivato quel momento, sì, è arrivato quel momento che temiamo da all'incirca un anno, ovvero quello di passare sulla spiaggia per andarsi a fare il bagno in rigiù, questa sabbia bollente, questo sole delle ore 12, che è quel sole che troviamo anche dentro di Marini Pisara, che vi fa vedere tutti i difetti che non avete, che non avete mai visto e non ci sono realmente, ma sotto questo sole sì, quel sole che vi fa una lastra che vi fa vedere anche l'interiore, e quindi, care ragazze, se non volete farvi vedere, se avete complessi, se non vi sentite pronte, ma state a grondare pure dal sottote, fate tesoro di questo consiglio perché è veramente l'unico metodo infallibile ed immediato contro la ritenzione, la cellulite, la lastità cutanea, le flaccidume, la sugna, i capillari, le vene varicose, cioè veramente, immediatamente voi vedrete i risultati, ed è semplicissimo perché basterà che voi facciate, così, la fettina panata, e voilà, bene bene affondate, e si va!